Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Ecco la mia recensione della versione finale di Zorin OS 16. Ho provato a lungo la beta, poi ho acquistato la nuovissima versione Pro. Ma vediamo anche le altre edizioni, migliorie grafiche e nelle performance e le altre novità. I giovani fratelli Artyom e Kirill Zorin non annunciavano un rilascio maggiore della loro distribuzione Linux dall'estate 2019. Come già detto nel video sulle migliori distribuzioni Linux per principianti 2021, Zorin OS 16 è una distribuzione su base Ubuntu 20.04.2 LTS, un buon compromesso tra aspetto gradevole e ricrezza di funzioni ma con pochi fronzoli. Zorin OS può essere scaricato gratuitamente nella versione essenziale chiamata Core con una discreta base di programmi preinstallati, tra cui la suite LibreOffice, Gimp, il solido client di posta e agenda Evolution, l'editor video PTV e alcuni giochi. È inoltre prevista un'edizione Pro, commerciale, acquistabile a 39€ più IVA. Questa prevede la stessa base dell'edizione Core ma una più ricca dotazione di software, maggiori possibilità di personalizzazione dell'aspetto del desktop rispetto alla Core e soprattutto assistenza all'installazione da parte del team Zorin. Zorin OS 16 nelle versioni Core e Pro non è una distribuzione che consiglierei a computer datati o di fascia bassa. Servono buona potenza di calcolo e non meno di 4GB di memoria RAM. Ma ci sono anche una edizione Edu, per scopi educativi, con apposita dotazione di software, e una edizione Lite. In un panorama Linux che sta assistendo all'inesorabile abbandono del supporto per architetture a 32 bit, l'edizione Lite, gratuita, è una mosca bianca. Questa prevede un desktop basato sull'ambiente grafico XFCE, supporto per architetture a 32 e 64 bit, e requisiti hardware minimi che la rendono adatta anche a computer con 1GB di RAM e schermo a risoluzione 1024x768. Al momento della pubblicazione del video, solo le edizioni Core e Pro sono già disponibili nella versione 16, mentre la Edu e la Lite sono ancora scaricabili nella versione 15.3. Ho provato tutte le edizioni di Zorin OS disponibili. La Core, gratuita, è acquistato la Pro, a pagamento, installandole fisicamente in apposita partizione e non in una macchina virtuale. L'utilità di installazione ha rilevato la presenza di Linux Mint 20.2 Cinnamon e mi ha consentito di affiancare Zorin OS 16. Durante il setup dell'edizione Pro ho potuto scegliere se installare una versione minima o completa, se includere e applicare automaticamente i driver più recenti, proprietari per scheda grafica Nvidia e altri codec multimediali di terze parti per rendere subito completa la fruizione di contenuti audio-video di ogni genere. L'installazione consente l'uso di Active Directory, la tecnologia Microsoft per la gestione di reti basate su Dosminio. In questo scenario le funzionalità di rete di Linux per l'integrazione con server Microsoft sono attive e preconfigurate automaticamente. L'installazione ha richiesto circa 15 minuti dal momento che ho autorizzato lo scaricamento degli aggiornamenti disponibili dalla data del rilascio. Zorin OS adotta un ambiente desktop appositamente realizzato, basato sul progetto Gnomi, essenziale ed elegante, dotato di temi chiari e scuri. La prima novità si nota proprio sul desktop, bordi più arrotondati, niente spigoli o linee forti, controlli intuitivi ed essenziali, nuove animazioni che si scoprono durante l'utilizzo. Sono stati aggiunti nuovi sfondi desktop, tra cui quello preimpostato, un paesaggio montano dinamico la cui illuminazione cambia a seconda dell'ora del giorno. Il team Zorin ha ottimizzato molti dei meccanismi del suo desktop, mettendo al centro dell'attenzione velocità e performance. Le migliorie sono volte a rendere il sistema più fruibile anche su computer meno performanti. Le ottimizzazioni secondo il team coinvolgono ogni livello del sistema, dal kernel all'ambiente desktop. Le applicazioni si aprono più rapidamente, le animazioni sono più fluide e i tempi di caricamento sono stati ridotti in modo da poter passare più tempo nell'essere produttivi, si legge nelle note di rilascio. Anche nella personalizzazione della barra del cosiddetto pannello ci sono passi avanti. Adesso può essere spostata su differenti lati dello schermo, resa più o meno trasparente e ripetuta o meno su schermi multipli. Bottoni e indicatori possono essere spostati o nascosti, e non esauriscono le nuove possibilità di personalizzazione. Caratteristica simpatica, ma non nuova, è la modalità gelatina. Questa applica allo spostamento delle finestre aperte e animazioni elastiche. Si tratta di un effetto opportunamente non attivo per impostazione predefinita, perché non va certo incontro alla compatibilità con hardware meno performante. Degno di rilievo l'ampliamento del centro software e della base di programmi installabili, che adesso integra anche il repository dei FlatTech. Questi consentono l'installazione senza conflitti delle versioni più recenti del programmi per Linux. Grazie all'inclusione di FlatHub, dello SnapStore, degli archivi APT propri e di Ubuntu, le possibilità di integrazione software sono molto ampie. Ed è ovviamente possibile installare pacchetti DEB, e grazie a Wine, software per ambiente Windows. Segnalo infatti un'interessante ed originale caratteristica di Zorin OS 16, che comporta lo scaricamento e la configurazione automatica di Wine e Play on Linux, non appena si cerchi di eseguire un file EXE destinato all'ambiente Windows. Il miglioramento dell'interfaccia del centro software, basato su quello di Ubuntu, rende ancora più semplice trovare ed installare applicazioni da fonti differenti. Quando un programma sia disponibile da molteplici sorgenti software, puoi scegliere la fonte da un elenco a discesa accanto al pulsante di installazione. Un'altra novità della versione 16 di Zorin OS è l'introduzione di un breve tour guidato, ovviamente tradotto in italiano, per scoprire le principali caratteristiche e consentire ai nuovi utenti di orientarsi rapidamente nel sistema. Dalla versione 16 di Zorin sono disponibili funzionalità multi-touch per touchpad, se supportate a livello hardware. Con lo scorrimento in su e giù con quattro dita ad esempio si cambia area di lavoro, con il pizzico a tre dita si apre la panoramica delle applicazioni aperte. Può sembrare cosa di poco conto perché Linux può installare applicazioni anche molto evolute per la registrazione e riproduzione di flussi audio, ma l'introduzione tra le applicazioni di sistema di un registratore di suoni consente di registrare promemoria vocali o podcast in modo semplice e senza complicazioni. Zorin Appearance è uno dei segni distintivi di questa distribuzione Linux e consente di modificare l'aspetto del desktop, modificare il tema tra vari colori, selezionare i caratteri di sistema ed effettuare altri interventi per la personalizzazione. Nella nuova versione dell'applicazione i bottoni per l'accesso alle singole schede sono stati spostati in una colonna sinistra e la selezione dei layout si è guadagnata un'apposita scheda. Anche il comportamento della dimensione delle icone adesso consente di intervenire in modo indipendente rispetto alle impostazioni che si desiderano all'interno del file manager. L'edizione Core prevede una selezione limitata delle possibilità di personalizzazione, cui si aggiungono 4 ulteriori layout con l'acquisto della versione Pro. Tra le aggiunte alla edizione Pro di Zorin OS16 ne sono stati introdotti di nuovi in stile Windows 10 e Windows 11. Il kernel è nella versione 5.8 come nella base Ubuntu 20.04.2. La base software prevede LibreOffice nella versione 7.1.5.2 anche se il tour iniziale suggerisse l'installazione di OnlyOffice per la maggiore compatibilità con i formati Microsoft. Come anticipato, le differenze principali tra le edizioni previste sono date dai programmi che si trovano già pronti all'uso a fine installazione o anche nelle cosiddette sessioni live direttamente dalla chiavetta. Tra gli accessori della versione Core, un editor di testo, il file manager, mappe, meteo e le note. Nella sezione Audio e Video trovi Brasero per la masterizzazione, Cheese per la webcam, PTV come editor video, Redenbox per la musica, il registratore di suoni ed il player video basato su Totem. Per la grafica, oltre a GIMP in versione 2.10.18, il visualizzatore di immagini e gnome photos. Nella sezione Internet oltre a Firefox 91 trovi e installato Remmina per il controllo remoto di desktop. Gli strumenti di sistema includono Gnomi Discs, Gparted, Boot Repair e Zorin Connect. Benché non si tratti di una novità nel programma Linux, con Zorin Connect, utilità associata ad una app gratuita per dispositivi mobili, puoi connettere telefono o tablet tramite wifi al computer per ricevere notifiche sul desktop, visualizzare foto scattate nel PC, gestire messaggi e usare lo smartphone come touchpad e telecomando. Per l'ufficio, oltre la citata suite LibreOffice, è previsto Evolution come client di posta e agenda. Le utilità includono Simple Scan, Baobab per il controllo dei contenuti dei dischi, lo strumento di backup, la calcolatrice, il programma per la gestione di archivi , il monitor di sistema e i registri, poi utilità per gli screenshot e il visualizzatore di documenti PDF e altri formati. Se acquisti la versione Pro, il file ISO di installazione passa dai 2,7 GB della edizione Core a 5,1 GB, perché trovi un sacco di ottimi programmi in più. Ecco un elenco non esaustivo delle aggiunte. Tra gli accessori trovi Barrier, per condividere un solo set mouse e tastiera tra computer e password safe per la gestione di credenziali. Su audio e video trovi la Workstation audio digitale Hardor Seir, Audacity, i suoni rilassanti di Blanket, Handbrake per convertire i formati video, Cadent Live per il montaggio video e OBS Studio per la regia digitale, oltre a mix per i DJ. Anche la sezione grafica è notevolmente arricchita nella edizione Pro rispetto alla Core. Ci trovi Blender, Color Picker, Darktable, FreeCAD, Inkscape, Krita, LibreCAD, Opentons e Scribus. Il meglio per Linux per la modellazione 3D, la fotografia, il disegno, il publishing, la grafica e l'animazione vettoriale. Alla sezione Internet trovi un aggregatore di Feed, RSS ed il Client Torrent Transmission. Nella categoria Ufficio trovi anche il lettore ebook Folliate, Home Bank per la gestione di conti, Minder e Xornal++ per lo sviluppo di idee. Come accennato, le edizioni edu e edulite di Zorin OS sono ancora previste nella versione 15.3 al momento del debutto della versione definitiva di Zorin OS 16. Le edizioni edu, scaricabili gratuitamente dal sito ufficiale, sono fornite di una ricca quantità di programmi di carattere scientifico ed educativo. E devo dire che tra tanti programmi a me già noti, ne ho scoperti alcuni che non conoscevo. Se nelle sezioni audio e video e grafica troviamo buona parte dei programmi previsti anche nella precedente Zorin OS 15.3 Ultimate, è nelle sezioni Istruzione, Programmazione e Scienza che si trova la maggiore quantità di programmi. Dalla chimica alla geografia, dall'algebra alla notazione musicale, dall'astronomia alla progettazione di dispositivi elettronici, poi giochi di parole, quiz, puzzle, strumenti per stimolare la creatività e sviluppare la memoria. In breve, hai un PC residuato di guerra e un bimbo da far giocare in modo intelligente? Scarica la versione EduLite, prepara una chiavetta USB e non hai neppure bisogno di installare il sistema per usare tanti programmi, a maggioranza tradotti in italiano. Zorin OS è fortemente basato su Ubuntu e sull'ambiente Gnome e forse non aggiunge così tanti elementi di originalità oltre gli interessanti layout del desktop. Anche l'utilità Zorin Connect associata ad una app gratuita per dispositivi mobili non è che una rivisitazione di KDE Connect che gli utenti del desktop Plasma già conoscono. Io resto fedele a Linux Mint, ma apprezzo Zorin OS. Sempre nell'ottica di avvicinare utenti non smaliziati a Linux. Apprezzo Zorin OS nel suo aspetto elegante e minimale e per lo scopo dichiarato di anteporre la privacy degli utenti a qualunque interesse legato al tracciamento delle attività. Nella homepage si legge «Crediamo fermamente che la privacy sia un diritto umano fondamentale. Ecco perché Zorin OS non raccoglie dati personali e così advertiser e governi non sono in grado di spiare le tue attività. Zorin OS è open source, così chiunque può visualizzarne il codice sorgente e verificarne la sicurezza». Proprio nel numero di luglio 2021 di Linux Magazine USA ho letto una intervista ad Artyom Zorin e la mia simpatia è aumentata. Pensa a questi due fratelli di 14 e 12 anni che nel 2009 per hobby decidono di creare una distribuzione su misura facilissima per i nuovi utenti di Linux e alla strada che stanno facendo. Io tifo anche per loro. Si potrebbe obiettare che con la base Ubuntu adottata da Zorin OS sia assurdo pagare per software open source. Zorin OS però offre una base gratuita, già apprezzabile dalla maggior parte dei suoi affezionati utenti, e questa contribuisce alla sua disfusione. Non sono previste donazioni libere, ma una versione a pagamento ad una cifra fissa e 39 euro oltre IVA non sono pochissimi. Ma la edizione Pro è dotata di maggiori possibilità di personalizzazione, molti più programmi pronti all'uso a fine installazione e soprattutto il servizio di assistenza, che non è poco, e questi richiedono tanto tempo e risorse. Ma se vuoi provare Zorin OS, scegli liberamente. Non sei obbligato a pagare. Puoi scaricare la versione Core che comprende già il sistema completo in forma gratuita. Rinunci solo ad alcune delle impostazioni desktop, che sono la caratteristica saliente di questo OS. Entri nella pagina download e l'edizione Pro viene messa in pole position. Ma scorri un attimo e trovi le edizioni gratuite, senza trucchi o inganni, sia dopo le modifiche al sito apportate con il lancio della versione 16, sia precedentemente. Non credo si debba considerare la cifra richiesta come un corrispettivo, ma come forma di supporto al progetto, allo sviluppo del suo desktop, di alcune delle utilità e delle differenti edizioni. Infatti la mail di conferma dell'acquisto della versione Pro non ti ringrazia per l'acquisto dell'edizione, ma per il contributo a supporto di tutte le iniziative legate al progetto. Una pagina dal sito ufficiale spiega le ragioni per supportare il progetto Zorin OS. Un ulteriore aspetto che rende molto interessante e degno di supporto il lavoro dei fratelli Zorin è il progetto Grid, in fase di perfezionamento. Grid sarà un sistema di controllo sullo stile LogMeIn o delle soluzioni avanzate di TeamViewer che consentirà il monitoraggio ed il completo controllo sulla sicurezza, l'aggiornamento e lo stato di una flotta di installazioni. Dotate di Zorin OS, sì, ma anche di altre distribuzioni Linux. Grid consentirà di valutare seriamente l'adozione di sistemi operativi liberi anche nell'ambito di realtà scolastiche o aziendali, con un possibile abbattimento di costi per licenze o per ritardare il rinnovo di parchi macchine. Zorin OS è scaricabile o acquistabile dal sito web ufficiale. Il file per la creazione di un supporto avviabile consente ovviamente l'installazione anche in italiano. All'indirizzo zorin.com.help trovi informazioni di base per l'installazione e configurazione oltre all'accesso al forum degli utenti o al supporto che si ottiene con l'acquisto della versione Pro. È tutto per oggi, grazie per il tuo interessamento alla mia recensione e a presto!